benvenuti in questo nuovo video io sono lej e oggi siamo su prospect è un'altra mod di hard drive quello di allora dopo che abbia fatto ovviamente a fredd 2 non potevano fare un'altra mod moledizione ogni volta che pensiamo di liberarcene ritorna questo maledetto vediamo cosa ci deve aspettare ora ovviamente anche questo inglese non fanno niente di italiano l'ora di hard drive chi man sei tu? oh dio mi curate? prospect? no siamo tornati in questo posto siamo tornati in nuova prospect ma dai non è giusto allora quando io l'ho fatto sto pezzo doveva durare un'ora e mezza quindi andiamo direttamente nel sciabattaggio che ho fatto io allora ho visto combine però non c'è nessuna arma e anche i combine dovrebbero sceglierci ora oh cristo oh una torretta aia fammi entrare che sono vado prima e devo entrare aia non so che c'è dove devo fare forse se prendo qualcosa mi fanno entrare per esempio ho una torretta mi fanno entrare se c'è una torretta? eh dovrei riuscire a spaccarla eh ma perchè non si spacca? c'è io ho lanciato la cosa la goccia che cavolo è non so ma se io butto tutte le pietre nel fuoco che succede? non dovrebbe succedere niente? no perchè ci sono tutte queste pietre? eh io in giro io ho dovrei distraire la telecamera ah la spina eccola ohle possiamo andare a barri chi è che palla? chi è che palla qua? oddio qua è successo un casino quando posso andare? che c'è questo tavolo? niente? ah qua c'è una porta dovrei avere un fucile da qualche parte no non si ha che bastardi magari c'è il fucile da qualche parte ma dovrei distraire con il tuo cuore? con il tuo cuore? aham apritemi 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 please però là c'è un ah aspetta qua in effetti avevo visto delle scatole che si potevano prendere e quindi dovrei riuscire ad andare da sopra che dite? funziona? comunque ancora non è abbastanza alto devo mettere un'altra scatola ovviamente si può prendere eccola qua le scatole che idee che mi vengono in mente ecco olle che è il migliore qua? sarei molto più contento di avere un fucile eh però comunque sblocchiamo questa porta adesso si può aprire oh 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 no olle olle non vedo asciutamente niente Brin ho sentito la voce di un combine ho sentito la voce di un combine e non il senso buono e speriamo che non sia proprio quello che ho sentito spero di no oh e che no ma quindi in un senso ma sicamente ma come faccio a sapere quando sta di più e quando sta di meno ce l'ho fatta questo è morto dove andare di qua buon salve ma non è che la torcia si accende con un altro metodo per esempio taschiera torcia ecco F e allora per forza non ce l'ho eh perché io premo F e non accende quindi sicuramente non c'è ah ok si ha questa porta se no non sapevo dove andare che cazzo devo fare aspetta qua c'è una manovella ah non è che la devo attivare in qualche modo devo fare così si ma cosa attiva esattamente forse forse si è sbloccato il cancello andiamo a vedere no però qua c'è una porta non so che cosa abbia fatto esattamente con la manovella oh cavolo eh spero che tu muoia ai 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 si è morto però non in senso buono buongiorno sentite non voglio fare disturbi quindi voglio solamente andare non ce n'è bisogno di mettere tutti questi laser oh dio santo oh no 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 beh però non sono morto oh mio dio eh eh forciarvi cos'è sta roba eh eh qui qua c'è un buchetto e di là ci sono dei kit i piedi in poco non ci voglio non ci voglio credere ho intubato la cruba i piedi in poco c'è finalmente ho anche la tuta e la torcia non si vede un cappolo fai oh bocciarvi adesso si che si ragiona ole e anche la pistola yeah 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 but però questa non si apre bene devo tornare indietro non mi dire che devo tornare indietro cosa c'è qua non l'ho capita no a quanto pare ragazzi devo tornare indietro a chi era però con i piedi con però con i piedi di poco ora è possibile come cavolo lasciato questa ah ma si passa pure sotto e che cavolo ne so io madonna per un peno questa asalto e volevi no è veramente chiusa vada vada merda ok ci dovrebbe essere un interruttore per per spegnere tutte queste affari ma non è solamente quelli problemi il problema che devo aprire quella foto sono in un altro giorno ora dove siamo uh merda uh dio no qua non c'è niente ma cosa dovrei fare certamente devo spaccare il tubo o forse devo sparare con la pistola devo sparare qualcosa? no delle cose? no ahia perchè adesso la mia tuta è maschio? vabbè con la pistola posso... no non posso smitarla no vabbè c'è la co... c'è io ho fatto tutta sta fatica 45 vite c'era un cavolo... vabbè perchè... vabbè lasciamo stare guarda però almeno la pistola e i piedi di park almeno quello perchè veramente sti armi mi piacciono Cioè veramente posso spaccare qualsiasi cosa Ok mi si era bloccato il gioco Qua non si va Qua si va Universale collisione Benissimo Oddio santo Era da tanto che non sparavo qualcuno Bene Qua vedo che è successo un bel casino Aia che è stata Eh ma però c'è chi c'è la porta Ma però qua c'è un'altra E qua c'è un'altra porta Fai a vedere Sì va bene Oddio Oh Eh C'ho 42 di vita Come ho fatto a ferirmi Aia Ah ah Qua c'è qualcuno No non c'è nessuno qua Ci sono solamente queste cose Che non mi ricordo come si chiamavano ma vabbè Dai Bastardo Non mi puoi prendere Sono god Prima Qua c'è un condotto di ventilazione ma Guardiamo prima qua che c'è Ah Quindi in qualche modo Prima devo Fai qualcosa Forse devo andare nel condotto Forse devo prendere questi barili No perché ce ne sono c'è Ce ne sono tre E poi ma Possiamo uccidere questi zombie Aia Ah ma noi lo possiamo passare Non vale questo Non c'è più colpi Aiuto Aiuto Ciao ciao A te ti do tanti saluti E me ne vado Ciao C'ho 10 di vita Aiuto Eh no no Voi no No La torcia Fammela un attimo Di cociare la torcia Oh Oh Allee Allora siamo ritornati Ciao Oddio 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 Il fucile a pompa E il nitra Ragazzi Qua si fanno tanti Ah Una tuta nuova Ecco perché parla In Maschio praticamente Un maschio Che succede Ora Ecco Ok Di che non c'è un attacco Per favore Perché non so proprio Come combattere C'è solamente 10 di vita Eh E tu sei bastardo Oddio Proprio qua Qua ci sono Dei scatere Beh preferivo Un centro Però Si può fare Dovrei tornare Dovrei tornare indietro Ora Anzi Guardiamo meglio Prima Se c'era Qualcos'altro Qua c'è sta roba È un interruttore Allora Qua non mi sembra Che ci sia niente Infatti Qua non c'è Assolutamente Nulla Quindi per forza Dobbiamo andare Indietro Dobbiamo tornare indietro Fatia Le palle Lo tornare indietro Fatia Andiamo 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 Oh 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 Era il flesso Cos'è Sono queste cose Ma perché È tutto attivato Vabbè Torniamo su Qua c'è una porta Già Torniamo Un attimo Su Ahah Oh Ci ha aperto la porta Oh L'ascensione Allora Stamodo Dovrebbe finire Al capitolo 9 Immagino Oh Oh Ma Buon Schalve Ma che bello Rivedervi Ah Olè Che bello Rivedervi Eh Praticamente C'ho Quasi tutto C'è Mi manca solamente La maglia E La balestra E lanciata Ancora E poi E' Per finito C'è Poi Le armi Sono a posto Olè Un bel Cento Finalmente Provo Che Qualche Munizione Per il Fucile Vabbè Vabbè Quella ci pensiamo Più tardi Qui ma andiamo avanti Che è più importante Olè 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 Forza Vai Oh Siamo fuori Benissimo Sento anche Degli spagli Spero che non siano Quelli che penso Lo sapevo Che hanno Quelli che pensano Dai Milla E' a posto Quindi possiamo usare Questo Benissimo Oh Che bello Sei ritornato Per il fucile Però Mi sembra Un po' I munizioni Oh 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 Stai calmo Non c'è La pistola Gravitazionale Muori Muori Ok Ok Ho già scelto Benedetto Maledetto La musica Proprio Agitata Qua vedo Che è successo Bel casino Per colpa Vostra E non Pago io Di certo Non pago io Oh ma Ciao Vedo che avete Degli amici A me non mi fa piacere Aia Prendi Diccia Ah tu Aia Oddio Gunship Che si è Stiantato Sul terreno Oh Questo è quello Che mi serviva Ho spento Tutto Bene No no Non voi Vi prego Vi prego Eh dai Diventiamo amici Ah Ma un attacco Questo Non è giusto Io non voglio Gli attacchi Basta Basta Attacchi Non è giusto Capiamo Aiuto Ma dobbiamo scappare dove Ah di qua Forse non era proprio il caso Spegnere tutto Ok Di un po' Me sono liberato A quanto pare sono infinite Ragazzi Quindi devo trovare un metodo Per andarmene via A questo posto Ecco No Ci può aprire Perché Perché Non c'è la maniglia Ah Devo far parkour Lì Via 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 Qua devo far parkour Benissimo Ok No Non funziona qua E quindi dove Ah Qua c'è un fondo Aiuto 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 C'è Maledette 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 Che 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 Eh Sì Ah Di qua ci va Ma 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 l'hai chiuso Ah no C'è un altro passaggio Ok Ok Andiamo Ok Un altro caricamento Ovviamente C'è l'hanno fatto proprio bene questo Questa Scusate Questa mod diciamo L'hanno fatta bene Molto bene dovrei dire Ok 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 Ok